Intorno a te c'è tutto un mondo che vive, una natura che ha voglia di stare con te. In questa natura, nascosto nel cuore del mais, un olio di semi buono e leggero. Olio dietetico cuore, il mais ha il cuore buono. Olio cuore, mangiar bene per sentirsi in forma.